Il mondo dei partiti politici propriamente detti ed effettivamente tali è scomparso da un quarantennio. Ripercorrere la storia di un partito politico è un lavoro di scavo con qualche implicazione anche sull'attualità inevitabilmente, perché se è vero che il tempo trasforma tutto, però nulla nasce dal nulla. In Italia purtroppo la nascita del frazionismo saragattiano ha infangato la parola socialdemocrazia, per cui era una parolaccia a sinistra, ma non soltanto nel mondo più acceso dei militanti di base comunisti, ma anche nel PSI era considerato una parola negativa, ma perché era incarnata dalla figura di uno che era stato pagato per fare la scissione di Palazzo Barberini nel 1947. Questo è stato un peso, una palla al piede nell'evoluzione, diciamo pure, lessicale del nostro mondo politico. Quando nel 1963 Togliatti disse l'arma atomica ha cambiato tutto, quindi l'alleanza con altre forze popolari come quelle cattoliche è indispensabile. Quando dice tutto questo è maturo per una modificazione anche formale di questo partito. Infatti poco dopo la sua morte Amendola sollevò la questione e fu messo in minoranza di riunificarsi con i socialisti e cambiare anche il nome, l'assetto. Fu messo in minoranza. Era un passo fondamentale. Averlo compiuto nel 1989 per il fatto che il muro di Berlino veniva demolito, l'est entrava in crisi, significava dire una follia. Noi comunisti italiani ci cambiamo anche l'aspetto esterno, l'assetto, perché è finito a quell'esperienza. Eravamo cambiati molto prima, ma non abbiamo avuto la forza di dirlo. Quindi la responsabilità potremmo dire di questa progressiva liquefazione è di chi non ha saputo in tempo operare quando era non soltanto a tempo per farlo, ma in una posizione di forza, non in una posizione di debolezza come quella del novembre del 1989. In questo libretto mi è venuto un po' un sussulto di malizia, ogni tanto anche invecchiando ha il diritto di essere un po' malizioso, e cioè di riprodurre un pezzo del discorso che Mussolini pronuncia nel novembre del 1922 quando ha ricevuto la fiducia della Camera. E tra le altre cose dice che la storia del capitalismo forse è appena cominciata, per ora dobbiamo fare i conti con il capitalismo. Ora, se uno legge i testi, se esistono ormai, si saranno persi, fondativi dei vari PDS, DS, S al cubo, eccetera, che ci circondano, attualmente forse PD, questa formulazione sembra quasi una formulazione di un'estrema audacia sinistrorsa, dire che protempore il capitalismo ha senso, ma un domani non ce l'avrà. Secondo me rabbrividiscono i nostri simpatici esponenti del PD, per i quali invece il capitalismo è diventato addirittura un atto di fede da venerare. E allora questa è una deriva vera. A mio modo di vedere, ma questa è un'opinione soggettiva, le cose non fatte a suo tempo producono risultati di questo tipo. Dopodiché non basta piagnucolare sul malfatto, uno si rimbocca le maniche e cerca di fare il possibile.